benvenuti ragazzi oggi noi su youtube dove faremo un gioco di carte di uno però con il computer perchè molti tempi con i compagni di squadra non si può giocare non lo so perchè forse a pagamento non lo sapere con il computer però il gioco contro john 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 jennifer adam e io sono pikachu 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 inizio la partita gioca pikachu giallo vai giallo vai giallo il giallo non ce n'è più blu è benissimo eh non c'è squadra carta vai già nemmeno squadra carta interna eh fa un video di carta a culo di aperti eh blu eh non capire colore che il gioco della sorpresa ce ce l'ho eh eh non capire colore eh persa la manda che la zocca cambiate colore cambiate buia lì mi regalino vede andiamo con l'el eh va va vai adam mangiare pass eh quattro carte eh nooo 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 eh sbottorate ah non devi stare a farmi un turno vedi che cosa tu cazzo eh eh scusate uh se che mi è tu cia ma io come ho avuto mi ha e cosa tu mi ha parlato blu blu vai oh blu blu mandati un regalino a la ferme blu vai ya gioca jennifer e muoviti e muoviti due regali stop nooo nooo ah no quattro carte e ti sta pure fermo e a ritmo fermo segnale quattro carte ok canale tocca johnny 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 fai perdere a tutti quanti tranne me johnny veramente johnny vai blu a mettere siamo blu merda ah saluto saluto sì fammi te collegati che non c'è da reggi è colore giallo genica c'è urus mannà chavagosc es oh vabbè amm oh is ti l'ai l'ai o oh ah C'è il QZ è mai uguale Ma con quanto devi? Rosso Ma fermati il nuovo Non ti giochi Dai gente Rosso Rosso Cognolo rosso eh Ah beh Due carte Vai Così ci gioca uno Sì vai Stavolta Non mi hanno fatto proprio Giallo Ehi che te l'ho già fatto uno Porca marca Eh stop Sì Ehi Giallo 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 devo vincere Dai Cosa il genere con il giallo non ti Sì grande Ma rimani pure tu con il giallo Sì Guarda sì Vai Ehi 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 Mi hai giocato il giallo Ah sei qui Giallo eh Vi avanti con il giallo Ma Ma Vaffanculo va Oh my god Oh my god Andiamo al giallo Mi ha fatto tutti Allora Ehi Ok Vaffanculo va Ehi Poi Vai la partita ragazzi e poi vai vai allora verde io sono ma non va bene la seconda prima questo non ha mai amicato con un cazzo si per i 4 cart fermo eh, fermo un turno e ora c'è anche il tetro verde ma voglio giallo oi che sta per me stesso eh, cambiata una scattata oh, ha cambiato giallo ah no sei buono e buono lo stesso eh si è messo con blu come capro giocano questi no no finalmente ragazzi giallo 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 vai è giallo eh non bezzà non bezzà non bezzà ci siamo liberati delle carte gialle ma lo abbiamo uno ragazzi ragazzi ho chiuso il video ciao raga ci vediamo al prossimo video bye bye ciao 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 ciao